Simone Parodi con Piacenza, sabato un altro bel esame per la Lube Banca Mare. Sì, Piacenza è una squadra molto esperta, con dei giocatori molto forti, sono giocati in pallavolo, quindi sarà la sfida dove noi avremo sicuramente il fio da torcere, dovremo giocare bene a pallavolo, quindi sarà una bella partita. Una squadra che assomiglia molto alla Lube per il grande potenziale in attacco? Sì, hanno Zlatano, Nicolo, che sono degli ottimi giocatori, è un giocatore molto esperto che sa giocare benissimo in attacco, l'eccezione, quindi sarà una squadra che ci farà inserire e vedremo come riusciremo ad affrontare la partita del genere. Tutti dicono che questa Lube deve crescere di partita in partita, dal punto di vista della prestazione, che cosa vorresti vedere sabato prossimo? No, dobbiamo crescere, stiamo crescendo rispetto alla partita non trovata venda, contro Roma ci sono visti i miglioramenti a muro, in difesa, battuta comunque, quindi siamo lavorando molto sul gioco che piace ad Alberto, appunto, come dicevo prima, il muro, la copertura, la ricezione, stiamo lavorando un po' su tutto, quindi secondo me contro Vicenza vedremo ancora una Lube migliorata e che contro questa squadra serve.